Capisco che fate il vostro lavoro. Un appello, un appello se se la sente di... Non rilascio l'intervista. La capiamo, la capiamo. Non mi viene neanche addosso la rabbia per arrabbiare anche con chi mi ha ammazzato. Sono qui preso dal dolore. Vado a fare un giro, vado al cimitero dal mio papà, guarda. Non riesce a dire... Mi dispiace, non mi riesce a dire... No, è che la... No, non vi capisco. La capiamo, la capiamo, però l'appello di un papà sulla politica purtroppo potrebbe incidere. No, ma non va specialmente sulla politica. Io non vado a entrare su questi argomenti. No, no, perché la persona che l'ha fatto venga punito. Ma quello lo do per scontato, è una cosa scontata. Però io non vado a pensare a questo. Quando è stato punito o impunito, io, i miei cari, il cilocchio. A parlare è il papà di Letizia Fiacchini, la bimba di 10 anni, investita e uccisa da un ubriaco al volante di una minicar che nella sera del 31 gennaio ha falciato lei e la sua mamma distruggendo una famiglia. Il giorno dopo di una simile tragedia è la rabbia il sentimento più comune tra chi conosceva la bimba e la sua mamma. Anche per il comportamento dell'investitore che tutti dicono era molto strafottente. Si è rivolto anche a noi, proprio alla folla che bisognava farci gli affari nostri, che lui tanto non aveva niente da perdere, che tanto a lui non gli avrebbero fatto niente. Hai ammazzato una mamma con una bambina e non hai neanche un minimo di coscienza, di ritegno, di rispetto per una famiglia che hai distrutto. Bimba è amica di mia figliola. Veramente, veramente. Ho spaccato il cuore, ma grazie. Non conoscevo nessuno. Sono solo un po' indignato. Che legge hai? Fra due giorni esci. Fra due giorni esci. E cosa fa? Poi torni a Romania e vivi. Ha una ragazza morta e sua figlia. Da mio paese qualcuno ammazza, va la galera a 25 anni subito. Non prendi mai patenti. Sì, da 50 anni questa legge, qui da Italia ancora non è passato. Ci saranno questi incidenti sempre, perché loro si sentono liberi di fare quello che li pare, essendo così ubriaco, guida. Avete visto cosa è successo?